Allora, questo per l'onore di gloria è il quarto premio, diciamo il valore, che dopo magari vale di più una spilla di questo, però questo è il valore, quarto premio al numero 5, 3, 53! Ah, ecco, non è il tuo padre, è qua? Adesso il terzo premio, numero 2! 2! Numero 2! Non c'è il 2? Non sa cosa c'è perso. 2-1, 2-2, 2-3, annullato il 2. Dammi un altro numero per cortesia. 0-9! 0-9! Cioè, è tuo. Ok, ho trovato, non è che è suo, è rilasciato anche lui. Va bene, quello è il premio. No, l'ha detto Michael! Michael! Numero, questo è il secondo. Numero 21! Numero 21! L'assessore! Allora, l'assessore è il primo cittadino, ci invitano tutti a cena stasera a casa sua, va bene? Allora, qua non c'è l'imbroglio, eh? 21! L'abbiamo preparato a porta per te per invitarci, per venire qui. Bravo! Adesso c'è la bicicletta. La bicicletta offerta da ciclo, moto, battaglia, qua c'è il cartello. Voi avete un problema, sia matrimoniale, che di salute, che di qualsiasi problema voi avete, tenete da Mario che vi risolve i problemi. Mario risolve tutti i problemi. La sfortuna è che voglio ancora risalzare Olga, Olga, Flora purtroppo non c'è più con noi. Era lei l'anima di tutte le manifestazioni. Un saluto ancora a Flora. Un applauso vivo! Ricordiamo che giovedì 8 dicembre alle 10 a Brinzio c'è la pedalata con i campioni. Si possono fare le iscrizioni qui presso Cipi Battaglia, anche quella è una manifestazione con tutti i campioni, professionisti e ex professionisti, su a Brinzio. 23esima edizione. Mi raccomando, anche lì partecipate. E l'ultimo numero è? No, ma io volevo dire, sai perché mi fanno fare le presentazioni, le cose, le cose diverse? Mentre lui è molto più... non ne dici dei stupidati. Allora, vediamo, fai te, perché... Allora, vediamo... Grazie.